parabarabara allora perché ho deciso di scimmiottare Rick Hasley sinceramente ogni volta che vedo never gonna give you up che me lo facciano per scherzo oppure perché ci capita sopra siccome è diventato diventata una canzone di successo planetario insomma ogni volta che vedo lui ballare in questo video mi spacco delle risate non so per quale motivo però forse il mio suggerimento che in quel video forse non avrebbe dovuto ballare ma ovviamente è solo un'opinione personale dunque sicuramente non avrei dovuto farlo io dunque perché parlo di questa canzone all'interno dei miei contenuti didattici perché oltre ad essere uscita nel 1987 ed aver avuto già allora un grande successo nel 2007 per merito di un meme fantastico lo è diventata ancora di più fino ad arrivare oggi ad avere queste visualizzazioni che sono pazzesche cosa succedeva quando tu aprivi il link dove venivi catapultato nella canzone di never gonna give you up praticamente venivi ricrollato questo è il termine esatto per dire quando a tradimento tu capitavi sopra questa canzone e venivi obbligato quindi ad ascoltarla almeno per qualche secondo tornando invece nella parte didattica dunque perché tratto questa canzone all'interno di un mio video perché c'è un tempo suonato nella canzone sviluppato su due battute che secondo me è molto interessante che ogni batterista oltre a suonarlo su never gonna give you up se gli dovesse capitare dovrebbe tenere nel taschino e tirarlo fuori nel momento in cui ti dicono fammi un tempo dance e fai ballare la gente la cosa ancora più interessante è che dietro questo c'è un batterista stra famoso ma un batterista che non mi sarei mai aspettato che è questo ebbene sì è una drum machine una delle prime almeno quindi nessun batterista famoso oggi di cui parlare ma solamente un tempo da imparare e da tenere a tenere lì pronto per essere suonato quando dobbiamo far ballare bando alle ciance adesso cominciamo a sviscerare il tempo sulla batteria abbiamo quindi detto che il tempo è diviso in due battute la prima battuta fa così sul primo ottavo del primo quarto metteremo una cassa e sul secondo ottavo un'apertura di charlie sul secondo quarto metteremo rullante cassa sul primo ottavo poi due sedicesimi nella parte successiva terzo quarto come il primo quarto quarto ancora come il terzo e come il primo ma con l'aggiunta del rullante insieme alla cassa seconda battuta identica la prima ma l'unica cosa che cambia è il quarto movimento che anziché avere l'apertura di charleston sull'ottavo in levare avremo ancora due sedicesimi col charleston chiuso quindi la battuta intera fa così in pratica unito tutto il tempo sarà questo proviamolo sul tempo questo era il tempo di never gonna give you up studialo lentamente perché non è così immediato è molto facile ribaltare l'apertura di charleston con i due charleston chiusi in sedicesimi è un attimo sbagliarsi quindi studialo lentamente poi una volta che l'hai portato alla velocità della canzone prova a buttarti sopra a vedere come va ti ricordo che se ti va di studiarlo e di condividermi i tuoi progressi puoi tranquillamente farlo o alla mia mail personale o addirittura qui nei commenti inoltre ricordati che se hai visto il video fino a qui vuol dire che non so se te ne sei accorto ma sei stato ricrollato quindi se vuoi fare la stessa cosa con un altro batterista non ti serve che condividere il video per oggi è tutto spero che questo video didattico ti sia utile in qualche contesto e intanto ti saluto ciao drummer